Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Ingegneria civile, edilizia e progettazione della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più www.uninettunouniversity.net Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.